Un saluto a tutti da Acquaporta, siamo qui con il Presidente del Circolo Nautico Monte di Procida che ha organizzato questa splendida regata nazionale qui appunto nel mare di Monte di Procida. Allora, Lino, Presidente, un grande successo a questa organizzazione per il Circolo Nautico Monte di Procida. Sì, allora abbiamo in corto l'interzonale sud, valevole per la qualificazione alla Coppa Campioni, abbiamo avuto un successo di adesioni, siamo la regata perché oggi vanno in concomitanza tutte le regate appunto valevoli per la qualificazione alla Coppa Campioni sia l'interzonale Nord, l'interzonale Sardegna e siamo quelli con gli iscritti più numerosi, abbiamo oltre 45 equipaggi in mare con circoli che vengono dalla Buglia come l'Azimut di Taranto e la Lega Navale di Taranto, da Palermo, da Procida appunto i nostri vicini. Insomma, è stata una bella giornata di sport fino adesso, speriamo che i risultati poi ci diano altrettante soddisfazioni come ci ha dato l'organizzazione fino a questo momento. E vabbè, c'è Manuel De Felice che se non vince una notizia, se no non possiamo pure evitarla di metterla quando vince. Vabbè, Manuel è sicuramente uno dei favoriti ma nello sport è proprio bello per questo che non vince sempre chi è favorito, quindi insomma incrociamo le dita e speriamo bene per l'esito finale di questi due giorni. Oggi ricordo è la prima giornata, domani è la seconda giornata, quindi i conti si faranno alla fine, si faranno domani pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.